Scatta l'inchiesta penale in Russia per le responsabilità della fuoriuscita di migliaia di tonnellate di carburanti dai depositi di una centrale termica nella Siberia del Nord. Sarà Noritsk Nickel, la compagnia mineraria dell'oligarca Potanin, a cui appartengono gli impianti a farsi carico dei danni, stimati in miliardi di miliardi di rubli. Ma alla sbarra finisce anche il sindaco di Noritsk, Rinat Akmektin, accusato di negligenza a seguito della catastrofica fuoriuscita del gasolio. Febbrili proseguono intanto le operazioni di bonifica del fiume Ambarnaia e i terreni circostanti. Eseguiamo la pulizia meccanica e per pulire completamente il territorio dobbiamo trattarlo con materiali assorbenti, prodotti biologici, che per dirla semplicemente digeriranno questi derivati petroliferi che rimangono sotto forma di pellicola sui terreni, le radure, gli alberi. E' sciocco dire o pensare che nulla perirà e che l'incidente sparirà senza lasciare traccia. La fuoriuscita di 21.000 tonnellate di combustibili, finite nei corsi d'acqua vicini a causa del danneggiamento di una cisterna nella centrale termoelettrica Tez 3, viene giudicato uno dei più gravi disastri ambientali nella storia dell'Artico Russo. Grazie a tutti.